Troppi disoccupati, il sistema informatico va in tilt. Ieri i centri per l'impiego della Sicilia si sono fermati per a quattro ore per un sovraccarico di domande, causando lunghe fila gli sportelli. C'è una situazione di grave disagio, racconta Francesco Garofolo, dirigente generale del Dipartimento Lavoro, dopo una giornata di tensione. I disoccupati sono tenuti ad andare nei centri sia per chiedere alla NASPI l'indenità di disoccupazione, sia per gli interventi avviati dal governo regionale, come i cantieri di lavoro e i tirocini, oltre che per la dichiarazione di disponibilità al lavoro che serve per essere assunti con sgravi fiscali o per partecipare ai corsi di formazione, spiega il dirigente. E così c'è stata la resta nei 65 centri della regione dell'isola, dei 400.000 disoccupati. A Palermo si sono presentate fino a 200 persone al giorno, con la gente che ha iniziato l'attesa la sera precedente, un disastro che ha rischiato di bloccare tutti i centri d'Italia. Il sistema infatti è centralizzato e il sovraccarico siciliano poteva spegnere tutti gli sportelli del paese, un'eventualità scongiurata che potrebbe ripetersi nei prossimi giorni. Le sedi del centro per l'impiego in Sicilia contano circa 1700 dipendenti, ma purtroppo non riescono a gestire un così alto numero di domande. Sia le sedi centrali che quelle periferiche risultano ingolfate e quotidianamente scoppia il caos tra gli utenti in attesa. Tra le richieste abnormi ai guasti informatici non c'è pace per chi cerca un lavoro o soltanto un'opportunità per il proprio futuro.